Conf Artigianato Sicilia diffonde i dati sullo stato di salute delle imprese artigiane nella regione. Da gennaio a marzo chiuse 778 aziende. I dettagli. Gero Miciche. Purtroppo è sempre più difficile scoprire dati statistici positivi e confortanti in Sicilia. Infatti report di ogni genere confermano il regresso economico e l'impoverimento del territorio. Più volte l'ANCE, Associazione dei Costruttori ed Ili, ha lanciato l'allarme crisi delle edilizie e delle infrastrutture, allegando i dati in caduta libera del numero di imprese e di lavoratori nel settore. Adesso è la volta di Conf Artigianato Sicilia. Dal 1 gennaio al 31 marzo 2016, quindi in soli tre mesi, in Sicilia sono scomparse 778 imprese artigiane. E si tratta della differenza delle iscrizioni all'apposito albo artigiani, che conta complessivamente 75.469 aziende. Ebbene, a fronte di 1.071 iscrizioni, sono state registrate 1.849 cancellazioni, con un tasso di decrescita del meno 1,02% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. In un documento diffuso alla stampa, il presidente dei Conf Artigianato Imprese Sicilia, Filippo Ribisi, commenta che ogni giorno 8,6 imprese artigiane siciliane abbassano le sera cinesche per non risollevarle più. È un arretramento del comparto che, malgrado le nostre denunce, continua a concretizzarsi ogni giorno. E questo nonostante gli sforzi enormi degli imprenditori, che lottano quotidianamente con un mercato asfittico, con una burocrazia allogorante, con la mancanza di credito, con la concorrenza sleale e con una politica fiscale che di certo non li supporta. Ancora sui dati, più nel dettaglio, a livello provinciale il peggiore è Adenna, con una riduzione di imprese artigiane dello 0,59%, poi Caltanissetta con meno 0,50%, Catania con meno 0,23% e poi Agrigento con meno 0,14%, tra 749 iscrizioni e 806 cancellazioni. E concludono la lista in negativo, Palermo con meno 0,12%, Messina con 0,10% e Siracusa con meno 0,07%. A parte la Sicilia, anche in ambito nazionale non vi sono tracce di inversione di tendenza. In Italia il comparto artigianato è giù dello 0,92% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con 12.507 imprese che hanno cessato l'attività.